Tre new entry, un assessore in uscita e rimodulazione delle deleghe. Dopo le vacanze estive, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, varirà il suo nuovo esecutivo. Le indiscrezioni si sprecono da tempo. A meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero trovare posto in giunta Maria Daniello Nighetano Mercurio, della civica Cosimo Ferraioli, sindaco e Rita Amarante di Forza Angri. Si tratta di tre consiglieri comunali, dunque la loro nomina porterà in aula i primi dei non eletti delle tre liste. Dovrebbe lasciare la squadra invece l'assessore alle finanze, Pasquale Pescino. Saranno riconfermati il vice sindaco Giuseppe D'Ambrosio, Caterina Barba, Maria Immacolata Daniello e Pasquale Russo. Sul fronte delle deleghe, Caterina Barba potrebbe cedere quella all'ambiente. Maria Immacolata Daniello potrebbe ottenere la delega al personale e cedere quella alla comunicazione. Maria Daniello potrebbe invece occuparsi di politiche sociali. Una rimodulazione della giunta che abbiamo in qualche modo concordato con le forze politiche e che a settembre sarà definitivamente attivata per dare un ulteriore slancio alle attività amministrative che sono in realtà in corso, nonostante ci siano i solidi denigratori che fa parte del gioco. È già chiaro il quadro futuro? C'è ancora da discutere su chi entra e chi esce? No, il quadro è molto chiaro, anche le delega sono abbastanza definite, per cui credo che sia tutto pronto per le nuove attività. Grazie a tutti.